Ci stanno vendendo il gas del passato al costo del futuro, così finiamo per pagare una fortuna ciò che è stato comprato a pochi spiccioli. Nessuno se lo può permettere, né le famiglie, né i commercianti, né le imprese. Per questo occorrono interventi tampone, sì, ma anche soluzioni radicali e durature. Le associazioni dei consumatori hanno deciso, intanto, di affrontare l'emergenza con un appello al governo. La lettera è stata inviata ai presidenti del Consiglio e dei ministri Mario Draghi e della Giunta regionale Marco Marsilio e al prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. Ed è proprio il prefetto ad aver raccolto l'appello, facendosi carico di trasmettere la lettera a Roma. Le associazioni Acqua Abruzzo, Arco Abruzzo, Guardia Civica e Contribuenti Abruzzo, che tutelano i diritti dei consumatori, oggi hanno segnalato in conferenza stampa anche l'aumento sproporzionato del costo dell'energia elettrica e del gas metano e hanno proposto misure urgenti e di forte impatto, a cominciare dalla sospensione dei distacchi per morosità. Poi bisognerà anche fare le pulci ai contratti e alle bollette e soprattutto agire sugli extra profitti delle major a partecipazione statale. Abbiamo fatto una proposta di moratoria rispetto alle sospensioni delle utenze morose in questo momento dove i prezzi sono schizzati alle stelle ed è una proposta d'urgenza, chiaramente, poi servono degli interventi strutturali molto più importanti di quelli finissin'ora messi in campo. Notizia di questa mattina, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha già inviato la comunicazione a Roma, al Ministero, per avere una risposta più importante su queste tematiche che ovviamente affliggono tanti utenti, tante persone, tanti cittadini e piccoli e medi commercianti della zona sia di Pescara che intorno di tutto l'Abruzzo e dell'Italia intera. Abbiamo avuto sul tavolo una bolletta di luce di un ristorante di 270 mila euro, oltre 270 mila euro, ma poi ci sono tantissime attività che hanno visto aumentare le proprie bollette di 4-5 volte rispetto a quello che pagavano non tanti mesi fa, parliamo del fine 2021, quindi pochi mesi fa. Questa è una situazione veramente molto grave e sono a rischio chiusura queste attività. Si parla di 15-20 mila aziende addirittura che siano a rischio chiusura entro fine anno, comunque entro i primi mesi dell'anno prossimo.